Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben ritrovati sul canale e benvenuti in questo video molto veloce che però ci doniamo a fare perché dovevo darvi delle spiegazioni perché siete stati veramente in tantissime a scrivere io vi ringrazio perché comunque mi avete subito avvisato, mi avete subito scritto delle novità quindi di base grazie a tutti ma come vi dicevo ho sentito proprio il bisogno di fare questo video per darvi delle spiegazioni e provare a coinvolgere un po' tutti così insomma da raggiungere più persone possibili come mi avete giustamente segnalato sul sito Centauria sono apparse le teche per le grandi Formula 1 io devo ammettere che già lo sapevo perché ero già stato contattato da Centauria già avevo avuto modo di parlare con loro e appunto mi avevano raccontato dell'uscita di queste teche mi avete chiesto veramente in tantissimi perché sul sito è apparsa proprio come fosse un'uscita quindi molti di voi hanno pensato che queste teche sarebbero arrivate in edicola ovviamente ragazzi non è così il prezzo è 44,90 per 6 teche e è vero che sono apparsi sul sito con una data di uscita ma semplicemente ragazzi perché Centauria ha utilizzato il classico layout che loro utilizzano per le uscite normali di edicola anche per far visualizzare le teche quindi quella data è la data di uscita della possibilità in cui si possono acquistare le teche ma ovviamente non arriveranno in edicola e se le volete acquistare le dovrete esclusivamente prendere sul loro sito questo è il primo punto perché a quanto pare tanti sono stati tratti in inganno e tanti mi hanno chiesto dice ma quindi arriveranno in edicola ma quindi le possiamo comprare in edicola questo assolutamente no comunque poi altra domanda che mi avete fatto in tanti non tanti quanto questa prima ma abbastanza è che qualità hanno e se secondo me potevano valer la pena rispetto alle altre soluzioni che vi avevo già fatto vedere in passato allora io al momento non ho avuto ancora modo di vederle ma Centauria mi ha assicurato che molto presto me ne manderanno alcuni campioni appunto per poterle provare e per vedere insomma come sono fatte quindi per il momento ancora non mi sono arrivato credo che dovrebbero arrivare a breve comunque vi terrò come sempre aggiornati vi lascio qui sotto i miei social perché io vi aggiorno immediatamente quando ci sono delle novità quando arrivano cose nuove quindi se volete essere sempre super aggiornati seguirmi sui social è la cosa migliore che potete fare quindi molto presto ci rivedremo così le proveremo queste tag vediamo un po' come sono fatte e spero che con questo video insomma sono riuscito a rispondere a tutte le domande che vi siete posti ci rivedremo a breve ok? quindi anche per questo video è davvero tutto e io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite qui da Visio è davvero tutto io vi mando un grosso saluto ciao ciao